Ciao a tutti, se siete qui è perché avete già visto la prima parte di questo video reaction e se non l'avete fatto, correte sul canale a visionarla appena il bano istantaneo, cari utenti. E questa è la seconda ed ultima parte del video reaction odierno. Se volete vedere il video integrale, andate sul canale di coppia Davide e Chiara Channel e cercate sotto il suddetto titolo Mia moglie mi taglia i capelli, parte 2. Bene, facciamo un breve riassunto di quello che era avvenuto nella parte 1, cioè c'era stato un inizio di taglio di capelli da parte di Chiara verso Davide, che era la vittima praticamente, come sempre spesso accade, nei video della coppia. Erano stati usati diversi attrezzi di taglio, da taglio, di... da taglio o di taglio? Bisogna avviene un dubbio. Comunque, erano stati usati un paio di forbici e un rasoio elettrico, ma nessuno dei due aveva dato il risultato auspicato. Quindi la coppietta si... cambiava location? Si... si... teletrasportava? No. Si spostava? Sì. Si spostava dalla cucina al bagno per utilizzare il terzo attrezzo da taglio, e cioè un rasoio usa e getta. Però siccome per questa operazione c'era bisogno dell'ausilio dell'acqua e della schiuma da barba, hanno creduto bene cambiare lo chiesso. Quindi ora siamo nel bagno di casa di Chiara e Davide. La seconda parte del video si apre con loro seduti in bagno, su delle sedie, non capite male, con Davide seduto davanti e Chiara alle sue spalle munita del rasoio usa e getta. Quindi si riprende allegramente l'impresa. Chiara insapona bene bene le parti da rasare, e cioè da una tempia all'altra nuca compresa. Però, dato che lui è già nudo, e lei si trova con la schiuma e il rasoio, gli zapona anche la schiena, e ci fa una bella passatina anche lì. Che dire, la partecipazione di Davide in questa situazione emotivamente è pari allo zero. Diciamo che l'entusiasmo proprio è ai minimi storici, oserei dire proprio apatia più totale. La rasatura va avanti per un bel po', tanto che lei, Chiara, velocizza più volte la scena, per poi ritrovarci di nuovo in cucina con Davide in stile Bart Simpson. E non ci crederete mai, ma a grande sorpresa è tornato nel cast di questo magnifico video il rasoio elettrico che è stato protagonista assoluto del primo video, cioè parte 1. Se non l'avete visto, corretta sul canale a visionarlo, appena il banno istantaneo. E quindi con questo bellissimo attrezzo, il rasoio elettrico, procediamo a regolare la lunghezza della cresta di Davide. Nel frattempo la coppietta conversa allegramente e si ripropongono di procurarsi un'attrezzatura più professionale. Quindi lasciano immaginare che l'impresa si ripeterà più volte. Tacci loro! Dopo un bel po' di passaggi, la provetta parrucchiera annuncia finalmente alla sua utenza che il lavoro per lei è giunto al termine, è concluso. Gli ha lasciato praticamente una zolletta di capelli al centro della testa. Ad occhi e croce, la prima cosa che mi viene in mente da dire è, non ti si invidia per niente Davide. Che gli possiamo dire per incoraggiarlo ragazzi? Non lo so. Magari gli possiamo dire sei stato fortunato che ti è successo adesso, che siamo in quarantena e non puoi uscire, perlomeno non ti vede nessuno. Quella è l'unica fortuna in tutta sta situazione. In questo caso la quarantena ti ha salvato Davide. Quindi il tempo trascorso in modo creativo per la coppietta di Quarto Giaro si conclude così, con questo taglio di capelli osceno e per fortuna ce l'ha lui. Bene, che dire, si sono divertiti, hanno fatto un bellissimo video, ci hanno rallegrato una mezz'oretta delle nostre giornate noiose trascorse in casa. Il loro video è concluso e relativamente anche il mio. Vi mando un bacio grande e alla prossima. Ciao a tutti da Gossip.